Bene, allora siamo all'ultimo talk dell'ESC del 2023 qui da San Donato, ormai si è fatta una certa, come si dice. E l'ultimo talk è un talk di security, che riguarda le vulnerabilità di una vulnerabilità, di BitLocker, che anche se è un po' anzianota, in realtà poi, come ci verrà spiegato, comunque è rilevante, è tuttora di interesse. E il relatore è conosciuto dalla maggior parte di voi, o comunque da molti di voi, perché è un relatore storico dell'ESC, che non manca mai di fare la sua presenza, anche con dei talk, e che è Alessandro Tanasi, Nat Jekyll, lo conoscete come Jekyll, quindi Jekyll, a te la parola e un applauso. Allora, grazie Seba, ciao a tutti. Parleremo di BitLocker, che credo che lo conosciate un pochettino tutti sulla mano, chi non sa cosa sia BitLocker. Ok, benissimo. Infatti adesso te lo spiego. BitLocker è il sistema di disk encryption embedded in Windows, per cui è il modo in cui tutti i volumi, quindi hard disk o chiavette USB o cose simili, vengono cifrati in modo full disk encryption. Ed è creato da Microsoft e messo dentro tutti i sistemi Microsoft da Fista, mi sembra, una roba abbastanza vecchia. pensato per interagire pesantemente con tutto quello che è la trusted platform, quindi il TPM e tutti i componenti che vanno a comporre la catena di Secure Boot. Ed è, in teoria, si spera, io spero, ampiamente usato da persone, quindi privati e da aziende. In teoria, chiunque ha un PC Windows dovrebbe utilizzare BitLocker per la salvaguarda dei suoi dati, quindi se vi sei uscendo di qua abbriacchi, vi mettete a dormire sotto cespuglio e vi dimenticate portatile, a meno quel portatile lì, in teoria, si spera, sia cifrato. Cosa fa BitLocker? Fa un sacco di cose in più, intanto, essendo abbastanza maturo, diciamo, esiste dall'epoca di Windows Vista, quindi da un bel po' di tempo, è stato studiato con cura come dovrebbe essere studiato un software di sicurezza, per cui se voi andate sul sito Microsoft, trovate ampia documentazione, e in particolare trovate molto ben documentati tutti quelli che sono i threat model, ovvero i casi di attacco per cui BitLocker è studiato, ad esempio, che ne so, cold attacks, quelle cose che vedete su YouTube, tipo congelare la RAM, cose simili che andavano di moda un po' di tempo fa, e altri casi di attacco, per cui sapete in che casi BitLocker è vulnerabile e in che casi BitLocker è studiato per proteggervi. E questo di base, quando si ha a che fare con quello che viene chiamato un controllo di sicurezza, è assolutamente fondamentale sapere per cosa è stato progettato e per cosa non è stato progettato. Ha un po' di funzionalità varie da fritto misto, quindi come vi dicevo prima, può essere usato non solo sull'hard disk, ma anche su volumi esterni, quindi chiavette USB o dischi esterni, qualsiasi tipo di cosa USB voi ci attacchiate. Utilizza AS o XX in base alla tipologia di algoritmo che scegliete. Prevede un meccanismo di recovery key, per cui voi potete stamparvi una recovery key da mettere in cassaforte, nel caso un giorno ubriachi marci e vi dimentichiate la vostra password. E prevede in particolare, questa cosa molto interessante, varie tipologie di modalità di utilizzo. Ovvero, il segreto che voi utilizzate per sbloccare il vostro volume BitLocker può stare in vari posti. Può stare dentro il TPM, che è un chip all'interno del vostro PC, senza spiegarlo in dettaglio cos'è. È un chip cassaforte, che funziona come fosse una cassa M, per cui voi ci potete mettere dentro dei segreti e questo chip si assicura che quando questi segreti vengono sfilati ci siano delle condizioni di sicurezza per cui questo segreto può uscire, diciamo, in modo sicuro. Può essere utilizzato questo TPM più un pin, quindi più un secondo fattore manuale, quindi qualcosa che ho e qualcosa che so. Può essere utilizzata una combinazione che secondo me è quella più avanzata che c'è, quindi TPM più pin più USB. Che vuol dire? Segreto che sta nel TPM dentro computer, pin che io so, e spero di ricordarmi, è una chiave USB dove sta un segreto sotto forma di file. Quindi tre tipi di segreti diversi che a concorrere, messi insieme, vanno a sbloccare l'hard disk. Oppure varie altre modalità anche sfigate, tipo solo USB, chi io solo password, chiaramente altamente sconsigliate. La cosa molto interessante è che BitLocker ha tutta la parte di feature enterprise, quindi può essere controllato da GPO, permette un network lock, per cui un sistemista da remoto può sbloccare BitLocker, perché chiaramente in un'azienda come fatta è manutenzione, se no i servizi di hard disk sono bloccati. Per cui ha tutta una serie di cose belle, carine e coccolose. Abilitare BitLocker è semplicissimo, basta cliccare sull'apposite concina e ci sono una serie di requirements che vi ho messo non tanto per spiegarvi come si abilita BitLocker, che sono sicuro che siete capaci, ma per spiegarvi quali sono i requirements nel caso voi vogliate mettervi a giocare con questa vulnerabilità qua. Quindi se ci giocate sul fisico dovete avere quella roba lì, ma in particolare se ci giocate sul virtuale, che chiaramente per fare test è la cosa più comoda, dovete abilitare Wifi, abilitare il modulo TPM all'interno di WomAware. Io ho usato WomAware ad esempio. Per abilitare il TPM dovete anche cifrare il disco, perché altrimenti WomAware non ve lo fa abilitare come modulo. È un hardware virtuale che aggiungete di più. Attenzione che se fate questo gioco qua, non su Workstation, ma sull'SX, è abbastanza complicato, perché dovete aggiungere Keystore sul WSphere, eccetera eccetera. Non ve lo racconto nemmeno. Però se volete giocarvi il consiglio è prendetevi una macchina virtuale e ci giocate col virtuale. Un altro mattoncino base prima di iniziare, perché adesso non vi sto ancora raccontando nulla di interessante, anzitutto molto noioso, è che cos'è Windows RE. Windows RE è quella bruttissima schermata blu con i cubetti che secondo me avete visto tante volte, ed è quella roba che viene fuori in caso di rogne. Per cui quando Windows si rompe, quando dovete sistemare il boot, eccetera eccetera, c'è una partizione di recovery con un ambiente di Windows minimale che si chiama Windows PE, che invoca questa partizione di recovery che si chiama Windows RE, in cui di fatto potete fare delle operazioni di ripristino della macchina. Di fatto queste operazioni le potete chiamare prima del login. Quindi quando avviate Windows, pigiate un po' di tasti F, vi salta fuori sta roba. Oppure ne ha altri modi per arrivarci. Quindi vuol dire, chi ha l'accesso fisico alla macchina, a sta roba ci arriva. Mettiamocela lì come post-it. Altra cosa importante, siccome questa è un'area molto privilegiata di Windows, che vuol dire anche molto delicata, perché se si spacca questo sono cavoli, aggiornare questa cosa qua non è banale, non è gestita dal normale processo di Windows Update, quindi clicca gli aggiornamenti, viene giù una sbroadata di roba e mi si aggiornano in PC. Mettiamo anche questo da un'altra parte. A un certo punto nella storia, di Peter Locker è venuto fuori un problema grosso. Chiamiamolo key button, chiamiamolo decrypt button come volete, però è un problema grosso. Sapete da dove viene quell'immagine, vero? Bravo. Ok. Se no mi fermavo, eh. A un certo punto, a novembre del 22, è uscita questa CVE, che gli hanno dato un 90 anni abbastanza generico, chiamandolo BitLocker Feature Bypass. Per cui, boh, che cos'è questa roba? Gli hanno dato un CVE SS medio, un 4.6 mediocre, come vedete la schedina del CVE SS, attacco fisico, confidenzialità, impatto alto, bla bla bla. E hanno lasciato l'aggiornamento, cioè bollettino Microsoft, quella peccettina da installare. Ok. E il problema, vero, è tutto in questa domanda, ma sta roba qua, secondo voi, era una peccettina da installare come tutte le altre? Installi e sono a posto? Assolutamente no. Sta roba qua, se leggevate l'advisory, era una peccettina da installare, ma era un'attività manuale da fare da parte dell'amministratore di quel sistema. Perché richiedeva un ulteriore aggiornamento manuale. Questa cosa qua, chiaramente nella complessità burocratica di Microsoft, si traduce in pubblicato l'advisor, non si capisce una mazza. ci ha messo da novembre a marzo dell'anno dopo a chiarire la cosa in passaggi successivi, chiaramente quel mondo che non ci capiva una mazza, almeno il mondo che leggeva l'advisory, finché poi alla fine a marzo si sono arresi, hanno pubblicato uno script PowerShell che tu lanci e ti fa l'aggiornamento, perché prima tutto andava fatto a mano. e quel tutto è veramente una cosa complicata. Cosa ci chiedeva questa cosa qua? Eh, ci chiedeva che non solo dovevo installare la patch da Windows Update, ma dovevo anche aggiornare Windows Recovery Environment. e abbiamo detto che quella non è un'operazione gestita da Windows Update, andava fatta a mano. Quindi loro hanno rilasciato uno script PowerShell che fa l'aggiornamento del WinR. Già il PowerShell da lanciare era una mezzaronna, perché dovevate andare sul sito Microsoft, selezionare l'aggiornamento corretto della versione corretta per il vostro sistema operativo, pigliarlo, scaricarlo, portarlo su PC e lanciarlo come argomento allo script PowerShell. Una cosa facile, direi. Questa era l'unica via per sanare questo CUE. Oppure, chiaramente, mettersi la benda di Rambo e farla alla macete via. Quindi, disabilitare WinR col fatto che potrebbe non essere più possibile fare il recovery di quel sistema, o cancellare la partizione di recovery. O installare Linux. Chiaro, da questo momento qua, a Microsoft tutte le ISO che scaricate dai loro siti le ha aggiornate, per cui le ISO dal momento della pubblicazione in poi WinR già ce l'hanno aggiornato. Questo vi è utile se questa cosa qua volete provarla a casa. Scaricate la ISO di adesso, anche se non avete fatto Windows Update, comunque WinR è già posto. per cui voi vi chiedete perché non funziona. Non funziona per quel motivo. Volete prendere una ISO più vecchia della pubblicazione della vulnerabilità. Questa cosa raccontata così, ragazzi, è una ricetta per un disastro annunciato. Nel senso che abbiamo un advisory che è stato fuori cinque mesi con una procedura non chiara, fin tanto che non hanno pubblicato PowerShell, che comunque è abbastanza complicato da utilizzare. Uno si fa Windows Update è tranquillo in cuor suo, in realtà no, perché bisogna fare un aggiornamento manuale con un PowerShell. E poi loro ti scrivono le cose come queste tra virgolette che ti dicono no, stai tranquillo perché per esplitare la vulnerabilità nel caso tu abbia il TPM con il PIN chiaramente devi conoscere il PIN quindi te lo devo fregare Social Engineering Brutforce Gantani ok, peccato però che di default questa roba qua non va su con il PIN va su in modalità trasparente per cui voi accendete PC con BitLocker e il volume si decifra non c'è un PIN non c'è interazione umana quindi è un problema di tutte le installazioni di default ok ultima piccolo dettaglio per i disastri annunciati le persone non leggono per cui secondo voi della gente che utilizza Linux e Windows quanti hanno letto quell'advisor e quanti l'hanno capito pure nelle aziende ok questo è un grosso problema ok perché come voi pervertiti sapete una vulnerabilità difficile da appacciare è una fantastica vulnerabilità per un attaccante per cui grossa festa per tutti grossa festa con dei limiti nel senso che il primo limite è avere accesso fisico alla macchina cioè in qualche modo dovete averciate le mani ok per poco tempo insomma secondo me è meglio avere il tempo per fare una copia del disco perché come vedremo dopo potrebbero succedere cose strane per cui meglio avere una copia di sicurezza del disco e questo chiaramente funziona solo per le installazioni TPM trasparente modo che però ripeto sono al default dovreste trovare veramente un'infrastruttura con un livello di sicurezza abbastanza alto per trovare un bit locker con pin o con chiave USB vediamo un attimo come funziona questa vulnerabilità adesso che vi abbiamo spiegato un pochettino qual è il disastro allora per iniziare a capirla il punto di ingresso secondo me è andare a analizzare il mitico powershell di 500 righe incomprensibili che è rilasciato a Microsoft in cui di base voi vedete che utilizzano un utility vi direi anche finora sconosciuta per montare la partizione di recovery ci applicano quello che chiamano safe force dynamic update di fatto è l'aggiornamento del winner si montano la partizione il problema è che questo non basta perché abbiamo modificato alterato quello che è la partizione di recovery che è una partizione in chiaro per cui è suscettibile ad attacchi bla 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 per cui va anche ristabilito un trust con tutto quello che è ve la semplifico l'infrastruttura di bitlocker per cui chiaramente voi avete modificato un hash a questo punto tutto il controllo di integrità va ristabilito quindi di fatto va disabilitato e riabilitato il winner insomma lo script fa un po' di magheggi per ristabilire il trust attraverso la chain che parte da il pulsante del pc uef eccetera eccetera mi porta ad avere windows avviato questo è il motivo per cui questa roba qua la fanno fare in modo manuale perché potrebbero avvenire cose non piacevoli andiamo avanti con lo script e a un certo punto ci troviamo questa roba cerchiata in rosso che è di fatto quella dll che lo script va a pezzare a di là di tutte le menate quella è la dll vulnerabile quindi già da 328 mega di update di microsoft che viene giù abbiamo capito qual è il singolo file che ci interessa per andare a capire come funziona questa vulnerabilità quello che c'è sotto in verdino è il blocco di parsing di cui della dll si tira fuori il valore della versione in blu si capisce se la versione su cui stiamo girando è corretta e in lilla c'è un bellissimo switch in cui per ogni versione di windows che ci può capitare questo scripettone si va a capire se siamo vulnerabili oppure no e fa la sua azione in particolare se voi andate a leggere questo switch riuscite a capire la sua logica perversa dello sviluppatore powershell e capite quali sono le versioni vulnerabili e quali no per cui di fatto quella dll è peggiata da quella versione che vedete scritta tutte le precedenti sono vulnerabili questo vale per windows 10 e windows 11 e quindi già qua avete stabilito un paletto in cui voi se volete fare dei test sapete capire se state facendo un test su una macchina vulnerabile o se state prendendo tempo su una macchina che in realtà non è vulnerabile quindi andate sul sito Microsoft vi scaricate l'aggiornamento 300 mega ve lo estraete in questo modo qua con il comando expand vi vengono fuori mille milla file andate a cercare la dll insomma a un certo punto avete stato dll per le mani cosa fate? la caricata in bin diff prendete dll la giornata dll vulnerabile ci fate un bin diff e andate a vedere quali sono le funzioni che sono cambiate la funzione che è cambiata è questa qua ok di fatto se poi voi andate a caricare sta roba in AIDA o in GIDRA vedete che anche questo sono due if con delle costanti le costanti ve le dovete risolvere con la mappatura dei nomi di winner bla bla non ve lo spiego perché è noioso saremo un talk solo su quello però di fatto da quella mappatura delle costanti andate a capire dove potrebbe stare il problema e il problema è che il codice vulnerabile sta all'interno di una costante che è relativa alla manipolazione del volume cifrato quindi quando tramite winrm si va a fare delle modifiche al volume cifrato e qua a un certo punto vi ho messo anche lo screenshot di un tizio che in 20 righe ha riassunto tutto il problema questo lo capite un pochettino dal reversing e lo capite un po' a fare a prove ve lo ho semplificato quando winr si avvia le chiave di cifratura del volume vengono derivate in un modo crittografico che lasciamo perdere quindi di fatto winrm può accedere al volume senza avere la recovery key e quando fate certe operazioni di manutenzione tipo cancella i miei file o cancella tutti i file chiaramente l'ambiente di winrm a questi file ci deve accedere per cui decifra volume quindi in un momento nella storia c'è il volume decifrato se noi riusciamo a infilarci in quel momento possono accadere cose non belle e quindi andiamo a capire quali sono queste cose non belle qual'è questo? ok allora come si inizia? chiaramente vi dovete fregare il pc adesso ce la dovete avere per le mani fate una bella copia del disco perché è meglio avercela adesso lo vedremo perché e fate partire la macchina in winrm ci sono 47 modi diversi uno è andare sulla schermata di login premere shift premere reset ci si ritrova facendo questo lì cliccate reset con lo shift ci si ritrova qua dentro ok a questo punto si ravana si ravana il percorso giusto è quello evidenziato in rosso quindi vado su troubleshot reset pc perché penso che reset chiaramente va a modificare qualcosa sul pc remove anything perché devo accedere restallo si installo frulla e a un certo punto arriva sta cosa vuoi cancellare tutto o vuoi cancellare solo i miei file e già qua vi viene il dubbio perché se io cancello solo i miei file all'interno di un volume cifrato in qualche modo per cancellare questi file sto volume cifrato lo devo aprire e quindi vi fate un bel negroni nel frattempo frulla che ti frulla qua nei vari schermati di frullaggi ci sono riavvivi si riavvia un po' di volta la macchina ogni volta che si entra si esce the winner vuoi distruggere tutto? si voglio distruggere tutto motivo per cui vi ho detto di fare il backup prima inizio a frullare e a resetare il pc con un bel counter di percentuale adesso voi in modo molto paziente siete arrivati a questa deduzione quando quella percentuale arriva a circa il 98% spegnete la macchina pensate povero Cristo che sta roba se l'è trovata perché approssimativamente a quella percentuale lì parte la decifratura del volume da parte dei bitlocker e voi lo interrompete lo spegnete io devo dire provando sta roba ci ho fatto un po' di tentativi per baccare il momento giusto perché non è proprio appena avedi il 98 non è proprio appena avedi il 99 insomma un po' di tentativi ce li ho fatti però a un certo punto tu resetti e arrivi a questa schermata che ti dice è andato tutto a puttane perché stavo decifrando e mi hai metto la corrente da sotto il culo tu dici va bene questo è proprio quello che volevo per cui ve ne fregate date ok la macchina si riavvia di nuovo e parte il normale processo di install di windows ok voi sapete che quando parte il normale boot di windows benché sia in modalità install già potete interagire quindi premendo tasti random potete fare cose e chiedere cose se premete shift f10 interrompete il boot per un po' e vi spawna la shell e vi spawna la cmd ok per arrivare qua un po' i tentativi li dovete fare ok se sbagliate vi fottete file per cui il backup di prima importante aprite questa shell occhio che vi dura poco perché vi dura il tempo che in background girano gli altri task per cui alla codice swordfish dovete fare le robe in fretta quindi fate un bel manage bde status per vedere lo status della cifratura e poi la bloccate ok la pausate con quel comando lì pause c ok in questo momento in cui la pausate le chiavi critografiche sono in uno stato non previsto bene dallo sviluppatore ok lì c'è il trdr del perché però non ve lo racconto perché è un po' complessino a questo punto cosa fate riavviate di nuovo riavviate di nuovo di nuovo fate lo solito scherzo per prendere la shell e a questo punto nel tentativo di ripristinare il volume vi trovate in una situazione di decryption particolare in cui voi potete interagire con una shell persistente di questo giro nel senso che qua non ci sono task che stanno girando come prima di installazione ma sta fermo lì c'avete la vostra bella calma per cui potete fare tutto quello che volete quindi in questo esempio qua interrogando i protectors si va a tirar fuori la recovery key che è l'ultima riga e lì chiaramente è game over però potete fare altre cose farvi un kernel dump fare un po' quello che volete ok per cui di fatto qua già con questa c'avete la vostra bella chiave di t-recovery quindi chiamate recovery da beatlocker decifrate il disco o siete voi che ridete non ho detto niente cosa si può fare per evitare questo perché chiaramente quando si racconta sempre una disgrazia bisogna anche raccontare un po' di biscottino di cosa si poteva fare per evitarlo iniziando dalla fine ragazzi le pezze vanno fatte ma non in modo cieco va saputo quello che si fa per cui purtroppo le cose vanno lette chiaramente ci fosse stato un pin quindi un secondo fattore questo gioco qua non funzionava perché avreste dovuto compiere un attacco secondario quindi social engineering eccetera sperando che la richiesta del pin non vada a deviare il workflow dal workflow che vi ho mostrato perché questa è una cosa molto molto infida nel senso che si è fatto un workflow che gli sviluppatori non avevano previsto per cui sai un team scrive beatlocker un team scrive cantaneo un team scrive gattini a un certo punto arriva quello che dice si facciamo una funzionalità per cancellare i nostri file si aggiunge di traverso la persona non si parlano e si crea un path un po' particolare nel workflow in cui voi vi inserite facendo lo spegnimento forzato della macchina quindi ulteriore circostanza non prevista e viene fuori la rogna ok per cui una circostanza è molto molto particolare probabilmente il pin magari non verrebbe nemmeno portato in questa circostanza qua poi chiaramente il solito suggerimento di hardening è evitare sempre lo stand by ok se andate sul sito beatlocker vi spiega bene anche il threat model dell'attacco alla RAM con i cold boot attack tutte queste cose lì con il congelamento della RAM e menate varie chiaramente tutte queste robe qua in ambito enterprise potete fare con un GPO per cui potete deliverare un beatlocker bello robusto tutto via GPO nessuno se ne accorge quindi secondo me il tempo è anche finito loro sono pronti cosa diciamo? beh diciamo che ragazzi questa qua è il 2022 però è un grosso problema perché patchare questa cosa qua non è banale non tutti lo sanno la gente non ci bada perché mica tutti hanno un team di sicurezza per badare a complessità di questo tipo l'exploiting è assolutamente banale perché come avete visto sì ci vanno dei tentativi ve lo dico cioè non è che la prima vi va alla prima beccata il 98% che è il momento giusto dovete fare dei tentativi varie volte però di base l'exploiting è banale probabilmente è stato molto più complicato l'hunting della vulnerabilità nel senso che trovare la vulnerabilità e stabilire una chain di exploiting non è stato banale sicuramente richiedeva delle conoscenze di internals perché non è che uno si mette lì a provare percentuali random richiedeva sicuramente una conoscenza del funzionamento interno di BitLocker tra l'altro come avevo detto questa è una vulnerabilità che da advisory affligge sia Windows 11 che Windows 10 io la procedura su Windows 10 non sono riuscito a riprodurla nel senso che Windows 10 con la DLL vulnerabile eccetera se voi andate in WinRM il percorso di exploiting che vi ho mostrato non c'è a un certo punto si interrompe eppure l'advisor lo dà come vulnerabile comunque da capire se lo danno perché c'è la DLL vulnerabile o perché il percorso di exploiting è un altro io sinceramente ci ho guardato non mi è sembrato che ci fossero altri percorsi chiaramente se volete provare ben venga ultima cosa ragazzi questo è un problema di lettura della documentazione cioè questi pc questi workstation vulnerabili sono dovuti a qualcuno che non ha letto qualcosa e questa vulnerabilità è estremamente utile per chi fa offensive ma anche per i forencer perché anche chi deve fare un'analisi di un pc che se lo trova vulnerabile a questa cosa chiaramente passa ad avere un volume cifrato a un volume accedibile questi sono un po' di link di letture per la sera che vi descrivono un pochettino tutto quello che vi ho detto ci sono anche un paio di analisi fatte molto bene e io avrei finito le slide se volete le trovate sul QR code e se avete domande sparte pure chi ha domande grazie intanto Jack chi ha domande alzi la mano e vediamo di procedere veloci alle domande e alle risposte domanda da ignorante di Windows che non uso praticamente l'accesso alla al recovery environment uno può averlo senza conoscere le chiavi del TPM eccetera cioè si può arrivare allora che logica ha il fatto che una persona che non è evidentemente il padrone del computer poter entrare e dire cancella i dati dell'utente e questa è una domanda interessante questo questo non è come si diceva prima a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca questa non è una svista perché è logicamente una cosa che non dovrebbe essere possibile se è possibile mi dispiace io sono cattivo dentro lo so ma penso tutto il male possibile è chiaro che è una feature perché io ho una macchina crittografata tu senza la crittografia l'unica cosa che puoi fare è formatarla non puoi fare altro e per formatarla non mi devi domandare niente perché non devi conoscere le chiavi per formatare la macchina e non devi fare niente devi formatarla appunto a quel punto le chiavi non ci sono più quindi questa cosa qua è a monte il problema anche se la libreria è baccata la mettono a posto ma è proprio tutta la logica che non ha senso che stia in piedi l'unico senso che io ci vedo è poterci mettere le mani dentro punto sì allora questa è una preghiera per tutte le persone come me che fanno security e che si vedono costretti a dire di no alle richieste bizzarre del business che tanto volte chiede delle cagate spaziali tipo questa questa è la risposta di vita la risposta reale è beh la patch semplicemente sai cosa fa quel pulsante lì lo toglie questa è la patch facile pensando sai tante volte capita di dover dire di sì a delle cose o di dire di sì senza aver fatto le valutazioni corrette perché anche le persone di security sbagliano perché magari convinte di riuscire a fare l'implementazione di questa cosa in modalità sicura perché tutta la chain del TPM dell'hardware verificato di secure boot è abbastanza un constraint complicato che ti certifica la sicurezza e l'integrità di ogni passaggio per cui probabilmente nella coscienza di chi l'ha pensata di chi ha detto di sì pensavano di riuscire a fare in modo sicuro però ha fallito non ci vero dolo se pensiamo al dolo tipo backdoor di stato no non avrebbe un bellissimo cubotto azzurro prima hai detto ovviamente che non va buona la prima il tentativo per quello tenersi il backup in caso di pc rubato forensic eccetera c'è modo quindi di recuperare un backup e riprovare più volte anche se non sei l'utente o hai bisogno comunque di chiavi di ttpm eccetera non ho capito il perché del pc rubato no nel senso ipotesi di un pc rubato o un pc sequestrato dalla polizia per fare analisi forense eccetera per ripristinare il backup se alla polizia non va bene il primo tentativo chiaro qua c'è un piccolo dettaglio su cui ho sorvolato il backup non è voi vi fate la iso e giocate sull'iso perché il sistema è il computer quindi quell'hardware quell'e quel wifi quel cptpm il backup che vi fate serve solo a ripristinare l'immagine raw del disco nel caso voi la fottiate però il vostro ambiente di testing è tutta la scatola e il perimetro del computer perché c'è anche il cptpm eccetera cioè non potete come fosse una forense normale fate l'immagine e la caricate su encase no perché non avete cptpm sì certo però sempre sullo stesso hardware è possibile poi ripristinarla per riprovare un secondo tentativo grazie ci sono altre domande nessuna allora ringraziamo un sacco Jack Hill per aver condiviso la tua esperienza la tua conoscenza qui a Summer Camp 2003 grazie